Sì, ricordo il finale, Parma 3 Siena 1, è stata una partita piacevole qui a Parma, fra due squadre ben messe in campo. Ha vinto il Parma in virtù di un grande cinismo nei suoi rapidi rovesciamenti di fronte, contro un Siena che per lunghi tratti è stato comunque all'altezza della situazione. Ricordiamo il gol, in vantaggio il Parma al ventitresimo con Biabianini, raddoppio il ventesimo della ripresa di testa di Vagliani su perfetto assist di Jovinco. Il gol senese di Grossi al 34esimo con una fiondata rasaterra dal limite sembrava avergli aperto la partita ma nell'ennesimo rovesciamento di fronte parmense al 48esimo Palladino appena entrato offriva da fondo campo un perfetto assist a Jovinco che insaccava praticamente a porta vuota regalando il primo successo al suo nuovo mister Roberto Donadoni.